Ola ragazzi benvenuti a questo nuovo video, io sono Poki e oggi siamo tornati qui su Galaga Enrangement. Nella scorsa parte abbiamo fatto i livelli 1 e 2 del mondo 4. Oggi invece facciamo i livelli del mondo 3, i livelli 3 e 4. Ok, si parte con le meteore. No! Dalla scorsa! No! Dalla scorsa! No! Dalla scorsa! E non è morto con un pelavo Nannazione Ok Ok Ho avuto un po' di spiega ma guarda Allora 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 Quanti basti alieni Allora 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 Bene ragazzi Io direi che per questa parte può essere tutto Spero che il video vi sia piaciuto E ci vediamo in un prossimo video Ciao